Musete anticipato. Spettacolare quella schiacciata di JT. Arriva a spazzare via tutto, Musete. Subito contropiede per Tortona. Macchiura con un tiro incredibile. Incredibile, JP Macchiura. Trava un canestro tutt'altro che semplice. Il tiro in pirouette. Un'altra giocata pazzesca e punambolica per Mitro Long. Mitro Long deve liberarsi in qualche modo. Olisevicius, giro e tiro, bellissimo. Il triplo incredibile di Osvaldo Solisevicius. Il spagnolo attacca e poi galleggia contro il culo. Questo è un canestro da campioncino. Cambia tutto Matteo Spagnolo. Rialza da metà campo. Il blocco di Dime. Ancora Spagnolo da otto metri. Matteo Spagnolo.